buongiorno è un buongiorno o diciamo un giorno migliore di quello di ieri perlomeno non si è ancora vista una goccia d'acqua ma il cielo la sta minacciando allora di cosa parliamo oggi l'argomento è sempre vivissimo ed è quello relativo alla espulsione alla squalifica di con sei sao ai tanti errori arbitrali che ci sono stati quest'anno sono tantissimi su spormediaset.it anzi sul profilo instagram di spormediaset li trovate elencati ci sono tutti ci sono tutti l'errore sul passaggio all'indietro ci sono stati due quest'anno uno in juve napoli un altro la partita in una partita del cagliari i passaggi all'indietro non interpretati invece no come passaggi e quindi non sanzionati con la punizione a due in area ma diciamo il nodo centrale della discussione per questo canale ovviamente è sempre questo discorso di con sei sao allora purtroppo purtroppo la giustizia sportiva è fatta in questo modo si rifà al referto dell'arbitro l'arbitro ha scritto nel suo referto che il giocatore con sei sao veniva o meglio incappava in una simulazione e fa fede il referto non c'è possibilità di tornare indietro lo so che stiamo vivendo in un paradosso perché se i vertici arbitrali ti dicono è vero non era simulazione si poteva giudicare una bassa intensità del contatto e quindi non giustificare il calcio di rigore ma non simulazione quindi non essendoci simulazione automaticamente non poteva scattare il giallo e automaticamente non poteva scattare come secondo giallo il rosso siamo tutti perfettamente d'accordo purtroppo c'è una grossa falla in questo sistema una grossa falla in questo sistema perché manca la regola secondo la quale e che secondo me dovrebbe esistere perché sbagliamo tutti sbagliamo tutti quando si sbaglia cosa si offre normalmente a chi si sbaglia la possibilità di rimediare succede nella vita di tutti i giorni no oddio non tutti ti concedono questa possibilità però diciamo che in teoria si dovrebbe concedere questa possibilità di rimediare l'errore nella giustizia sportiva non c'è non c'è non c'è la possibilità di tornare indietro pur riconoscendo l'errore pur riconoscendo l'aver sbagliato i vertici arbitrali dicono con sei sao non andava ammonito l'ammunizione è eccessiva ok non andava ammonito attenzione è eccessiva è ok però fa fede il referto dell'arbitro per cui non puoi dire all'arbitro cambia il tuo referto scrivi che non era simulazione che non c'era il cartello giallo e quindi così sa no così sa prende anche la multa e neanche la multa 2000 euro per carità per un calciatore di questi livelli che gioca in queste squadre 2000 euro sono briciole ma resta il danno alla squadra ed è questo che dovrebbe essere considerato al di là delle altre assenze che la juve avrà contro la lazio ma questo al giudice sportivo non devono interessare perché dico cosa si è fatto male come si è fatto male breve è appena stato operato quindi chi se ne frega da questo punto di vista per il giudice sportivo ma deve considerare anche l'assenza dei consegni sao ed è un danno comunque anche qualora fosse stato l'unico assente diventa un danno nel momento in cui mi riconoscete che non andava ammonito cioè c'è danno danno e no come si dice in questi casi beffa vabbè fa troce sì sì lo so e lo so ci siamo sbagliati però non possiamo andare indietro è aberrante è allucinante è qui che bisogna intervenire e su questo su altre situazioni è stata fatta marcia indietro con interventi dall'alto vedessi gravina appunto nell'esempio l'anno scorso anche qui voglio puntualizzare ragazzi non era un'azione di gioco quella di lukaku ma io non è che mi sento dire tu non vuoi difendere la io non devo difendere nessuno io esprimo il mio punto di vista e cerco di essere obiettivo come vi sto dicendo che è assurdo che con sei sao debba saltare un turno al tempo stesso vi sto dicendo che la situazione dell'anno scorso di lukaku non era un'azione di gioco era un'esultanza considerata provocazione dopo grazie anche all'intervento di gravina è stata derubricata ad esultanza a gesto che lui normalmente compie poi possiamo argomentare finché volete ma non era una situazione di gioco la situazione di gioco era il rigore trasformato l'esultanza non è una sezione di gioco in quel momento diventa poteva diventare poteva essere interpretata come provocazione e poi però si è tornato indietro su lì si è tornato indietro allora il regolamento in teoria non lo consentiva nemmeno lì è intervento gravina ma su una questione cercate di capirmi su una questione di non di gioco extra gioco ok capite è una sottigliezza di regolamento ma gravina in teoria non può intervenire adesso per dire togliete la squalifica con sei sao perché lì è una situazione di gioco di gioco interpretata come tale va bene e non si può va bene no non va bene non va bene perché ripeto il danno c'è però purtroppo è questo quindi voglio sperare che ci sia un intervento ma non ci sarà non lo so non credo che ci sia un intervento da parte della giustizia sportiva per colmare questa lacuna per riempire questa falla di regolamento nel momento stesso in cui sei tu organo arbitrale supremo a dire ci siamo sbagliati o comunque non andava interpretato in questa maniera allora in questo con così avrebbe senso però non so se questo succederà ragazzi credo che sia molto difficile che possa succedere termini pratici perché è vero che c'è la partita della nazionale ma bisogna guardare oltre bisogna guardare a juventus lazio saranno fuori in quattro con miners premer e sappiamo che lì le cose vanno decisamente per le lunghe ecco il motivo per il quale ho ricevuto la telefonata poco fa perché ero imboscato in una via vicino alla scuola ma avevo fatto il calcolo dei tempi potevo starci dentro ma evidentemente no ok e e poi manca appunto che con sei sao e nico gonzalez per cui diciamo che per la prima volta in stagione ed è siamo solo all'inizio che sono state giocate solo sette partite di campionato possiamo parlare quasi di emergenza per quanto riguarda la formazione con la lazio emergenza soprattutto su quel lato lì il destro mancando questi due giocatori la speranza o meglio barra non certezza ma comunque l'indiscrezione che ce la possa fare recuperare wea che al momento è l'unico giocatore che può prendersi quella zona di campo a meno che tiago moto non voglia inventarsi qualche cosa di particolare anche in questo caso ma non credo che dal next gen possano arrivare dei suggerimenti dei suggerimenti importanti ho cambiato luogo ma non auto perché nel frattempo poi ho sentito apriamo così facciamo un po più di luce ho sentito il l'intervista di rocchi ieri presenta un evento sul nuovo codice di giustizia sportiva eccetera 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 e lui dice sì ci siamo ha ribadito su diverse situazioni gli arbitri si sono sbagliati non sono soddisfatto ma poi dice anche su certe situazioni siamo in tanti siamo una quarantina siamo tante teste ed è difficile ottenere l'uniformità di interpretazione laddove appunto esiste l'interpretazione quindi al di fuori del gol non gol fuori gioco non fuori gioco e però è una dichiarazione che lascia ancora tutto lì cioè è una dichiarazione che ancora giustifica il fatto che ok ci siamo sbagliati prendo il caso di con sei sao ci siamo sbagliati però non possiamo fare niente per intervenire e per togliere la squalifica iscrivetevi al canale ci vediamo stasera ciao